fuori tutto ieri sera a domodossola l'ormai consueto appuntamento con gli affari di fine stagione in coincidenza con l'epilogo del periodo dei saldi estivi la giornata e la serata propizie per un po di shopping si sono trasformate però in una vera e propria festa in tutto il centro cittadino per l'occasione chiuso al traffico i negozi potevano esporre le loro merci all'esterno per dare vita a un vero e proprio centro commerciale en plein air come potete vedere vie e piazze domesi ieri sera brulicavano di persone diverse provenivano anche da fuori città un pubblico di tutte le età perché se lo shopping solitamente non è un'attività particolarmente gradita ai piccoli non sono mancate le attrattive per loro come i trampolieri simpatici giganti che si sono fermati a chiacchierare con i bimbi e che hanno mostrato la loro abilità con la giocoleria e sempre al pubblico dei giovanissimi era destinato il colorato trenino dell'allegria insomma la serata di shopping si è trasformata in un evento gradito a tutta la famiglia in un'occasione per una passeggiata fuori casa per un caffè per ascoltare un po di buona musica per qualche acquisto da sfruttare ancora in questi mesi estivi sfizi che non hanno pesato troppo sul portafoglio visto che questi super saldi arrivavano fino al 70 per cento di sconto la fiera è stata promossa dall'assessorato comunale alle attività produttive ed ha avuto anche una buona sesione di commercianti grazie grazie